Ciao a tutti ragazzi, io sono Francesco, 16 anni, e sono uno degli atleti di Vincenzo Maenza. Oggi vorrei farvi vedere la bellezza di questo sport, la lotta greco-romana. Vincenzo Maenza ha vinto due volte la medaglia d'oro alle Olimpiadi, nell'84 e nell'88. Per imparare la lotta bisogna affidarsi a delle persone capaci, non persone che si improvvisano, che un giorno fanno la lotta, l'altro giorno fanno MMA. Bisogna affidarsi a persone competenti come Vincenzo e queste sono delle parti dei miei allenamenti. I feel that I will never find a way to heal my soul. And I will wonder till the end of time, torn away from you. My heart is broken Sweets me by dark ages Deliver me works from sorrows for once Over my heart Over my heart I can't go on living this way But I can't go on living this way But I can't go back the way I came But I can't go back the way I came But I can't go back the way I came Change of this fear But I will never find a way to heal my soul And I will never find a way to heal my soul And I will not to the end of time Half a life without you My heart is broken My heart is broken Sweets me by dark ages Soil and a day More requested And I will never leave for you Change Open your eyes To the night And night It bisa be heard if so Now even say love Say good night Your ignored Grazie a tutti